Sul fronte della lotta alla criminalità organizzata ieri sono stato orgoglioso. Ho visto delle polemiche montate incredibile, i giornali, i telegiornali. Vergogna che Salvini va a Corleone invece di andare alle sfilate per il 25 aprile. È giusto onorare la memoria di chi ha dato la vita in passato per questo paese, ma non è diritto, è dovere del ministro dell'interno combattere i nuovi occupanti di questo paese che sono i mafiosi. E andare a farlo nel cuore della Sicilia che non è mafia, ma è tanta gente che è bene, sono poliziotti, carabinieri, maestri, insegnanti, medici, avvocati, giovani, volontari. E quindi alle polemiche qui e là, contento di essere stato ieri a Corleone, a Monreale, a Bagheria, a Cantanissetta, oggi qua, poi a Gela, poi a Mazzara, e ci tornerò.